di nuovo buongiorno ben ritrovati questa è la seconda parte del nostro tg mattina riprendiamo dalla lettura dei quotidiani oggi in edicole in particolare dal plurisettimanale pitagorico il crotonese il consiglio dice sì al debito milionario scalera colpa di vetta e dominiani ma la fotocopertina è dedicata al dramma che stanno vivendo i dipendenti dell'amministrazione provinciale di crotone un dramma analogo a quello che vivono i dipendenti della provincia di vibo valenzia ormai senza stipendio da mesi incapaci impossibilitati più che incapaci di garantire i servizi essenziali e vedete a crotone la situazione è assolutamente analoga provincia in coma servizi non più garantiti stato di agitazione sulla prima del crotonese anche una notizia di cronaca molto grave che viene dalla germania i sogni di madre e figlia finiti tragicamente su una strada in baviera originarie entrambe di belvedere poi a guato a ranieri a fondo gesù tanti presenti nessuno ha visto si tratta dell'agguato ordito l'altro ieri nei confronti di un pluripregiudicato piero ranieri appunto era presente addirittura un bambino pensate la madre per salvare il piccolo dalla traiettoria dei colpi si è gittata a fatto scudo con il suo corpo sul figlio andiamo ancora avanti l'asso acro verso il fallimento il tribunale convoca i sindaci poi cutro aumenta delle tariffe per la tasi e lo scuolabus adesso prima di passare alla lettura delle pagine interne di quotidiano e garantista scopriamo che il santo del giorno sabato 7 novembre 2015 san prosdocimo a padova san prosdocimo che viene onorato dalla tradizione come il primo vescovo di padova patrono della città eoganea e anche secondo l'opinione di vari studiosi probabile evangelizzatore di tutta la venezia occidentale anche la più bella immagine di san prosdocimo venne dipinta da un padovano il grande quattrocentista andrea mantegna fa parte di un politico intitolato a santa giustina altra celebre martire di padova che si trova attualmente nella pinacoteca di brera a milano il garantista ecco matteo renzi che a vespa dice il ponte sullo stretto si farà e riesplode la polemica tra sarcasmi e applausi la politica si divide tra grilline sel inferociti e nuovo centrodestra speranzoso il premier lancia la bomba tra virgolette poi specifica prima però dobbiamo sistemare le emergenze forza italia attraverso la voce della coordinatrice regionale calabrese iole santelli tradotto vuol dire che non se ne farà nulla ancora l'età per storia infinita di un'opera mai iniziata la struttura già costata 300 milioni porta in eredità una penale di un miliardo ma la politica fa ancora belina andiamo ancora avanti costi della politica i grillini calabresi una piccola casta ecco cosa scrive il garantista riguardo la piccola casta dei grillini tra i parlamentari del movimento 5 stelle indisciplinati nella restituzione dei rimborsi anche una buona fetta della pattuglia regionale l'auto documentazione su ti rendi conto punto it leggiamo cosa il sommario la linea dettata dal leader beppe grillo nel 2013 chi vuole tenersi i soldi se li terrà vuole fare carriera si mette fuori da solo ecco insieme alcuni esponenti del movimento 5 stelle in calabria federica diemi in particolare e poi la parlamentare tropeana dalila nesci assieme al leader beppe grillo ecco a piedi pagina invece il riferimento a dirty soccer pioggia di deferimenti tra le 29 società anche catanzaro vigor interreggio e montalto e ancora università calo iscrizioni flora sculco dice fenomeno preoccupante andiamo ancora avanti la politica in primo piano sul garantista ritorno alla casa madre per il senatore caridi in forza italia mutano gli equilibri sfuma l'obiettivo di sostituire iole santelli alla guida del partito ma caridi sostenuto da romani e dall'ex ministro de girolamo nei prossimi giorni sarà seguito da numerosi sindaci il benvenuto di mimmo tallini e giuseppe mangiolavori poi a tre santelli il governo fa il gioco delle tre carte quindi io le santelli interviene non solo in una pagina sul ponte sullo stretto e nell'altra appunto sulla tre i fondi comunitari politiche regionali la commissaria cretu porge la mano al sud e noi commissari pronti a sostenervi poi del rio fiducioso entro gennaio il master plan andiamo ancora avanti una torta milionaria è la torta della sanità privata a cui il garantista dedica il suo titolo di apertura in prima è così che i big della sanità privata se la dividono secondo il deputato di alternativa libera sebastiano barbanti la gestione del budget sanitario privato in calabria e una pagliacciata siamo allo sbando totale e tutto improvvisato e ancora a piedi pagina non cediamo alle intimidazioni senza remora andiamo avanti le pressioni di qualunque latura non ci fermeranno e continueremo nel nostro quotidiano e faticoso sacrificante mestiere di informare tutti voi nostri lettori è un servizio che ovviamente è di denuncia da parte della redazione del quotidiano il garantista rispetto a presunte insomma intimidazioni di vario genere subite dal quotidiano e poi il racconto del collaboratore di giustizia fuori dall'endrine per giusta causa Femia racconta ai magistrati come per gravi motivi di famiglia si può uscire dalla drangheta è una deposizione questa che avviene di fronte alla tribunale di Reggio Calabria e infine il commento di Ilaria Mendolia sulla trattativa Stato-Mafia che ha portato alla soluzione dell'ex ministro Calogero Mannino e poi l'esempio di Adele Cambria quando la voce le rovesciò quelle accuse sessiste andiamo adesso al quotidiano del Sud che come abbiamo visto dedica anche esso grande spazio al Ponte sullo Stretto si farà in certe solo la data così il premier a Vespa poi iniziò Craxi poi ci riprovò Berlusconi nel frattempo però mentre si parla di Ponte sullo Stretto a Messina si è ancora senza acqua come vediamo in questo servizio a piedi pagina del quotidiano ancora a fondo contro i vescovi affaristi il Vaticano tiene ancora a banco il caso Vatilix mentre Monsignor Balda nega ogni addebito su Monsignor Balda come ricorderete gravano le pesanti accuse anche dell'altra coindagata accusata di essere il secondo presunto corvo nelle stanze vaticane ovvero la Calabrescia Francesca Sciocchi ancora Renzi si dimentica di Reggio è il punto sul maltempo se litte il Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello Stato di emergenza viene prima la grande sete di Messina col diretti 27 milioni i danni all'agricoltura la macchina dei soccorsi invece non si ferma e adesso il processo Emilia a Bologna che va avanti il boss di Cutro fa ironia in aula si tratta di Nicolino Granderacri altrimenti detto mano di gomma ritenuto uno dei falchi dell'andrangheta tra i boss più sanguinari e ricordiamo è il principale imputato di questo maxiprocesso oltre 200 gli imputati si è dovuto addirittura costruire un padiglione alla fiera di Bologna per poter ospitare imputati legali e giornalisti il maxiprocesso non sarà trasferito a Cranzaro come richiesto alle difese prende la parola nell'udienza contro i 236 imputati Nicolino Granderacri e parla di intercettazioni travisate e travasate ecco qui invece la guerra di mafia nelle preserre a 24 ore dall'attentato controlli e perquisizione a tappeto da parte dei carabinieri secondo tentato omicidio ai danni della famiglia Loielo in due settimane e poi un passo indietro una bella ricostruzione a firma di Gianluca Prestia una sanguinosa faida lunga 25 anni attori diversi ma la violenza è sempre la stessa e andiamo ancora avanti game over per Siclari e Rappoccia lo Stati Beni per oltre 200 milioni di euro nella disponibilità di imprenditori ritenuti contigui alle cosche e vi abbiamo ben ragguagliato nella prima parte il nostro TG sempre avanti restiamo a Reggio Calabria dove ci sono importanti novità per le Omica il nuovo corso dell'ex Omica arrivano i giapponesi di Itachi ieri mattina i manager nipponici hanno visitato lo stabilimento di Reggio piena garanzia sull'occupazione per i prossimi tre anni non ridurremo nulla poi il passaggio di Caridi a Forza Italia e le prossime mosse degli azzurri calabresi e il nodo per quanto riguarda il lavoro degli LSU e LPU che l'altro ieri hanno protestato in maniera molto vigorosa davanti alla cittadella regionale LSU e LPU in cerca di copertura alla riunione di Roma con Oliverio e il sottosegretario De Vincenti si cercano i soldi per 5.000 persone e si lavora per un emendamento alla legge di stabilità un emendamento che a dire il vero era stato promesso erano stati promessi 50 milioni di euro per metterci una toppa promessa questa del Premier in persona poi quando il testo è arrivato al Senato tutti ci si è dimenticati insomma di inserire questi 50 milioni e di offrire un ancora di salvataggio appunto agli LSU e gli LPU calabresi la busta paga del governatore quanto guadagna Mario Oliverio? Oliverio guadagna è il caso che scrive riporta Valerio Panettieri 13.800 euro mensili 6.000 soltanto di rimborsi forfettari l'uscita di Renzi i presidenti delle regioni guadagnano più di me ecco le cifre per ogni regione vediamo che Oliverio guadagna esattamente più o meno le cifre oscillano 13.700, 13.800, 13.500 poi ci sono alcune regioni come il presidente della regione Sardegna che prende 12.900 euro altri quello che prende meno di tutti è Deborah Serracchiani in Friuli, Venezia e Giulia 12.530 euro insomma stipendi che superano oscillano dalle 12.500 euro alle 13.800 euro per tutti i governatori invece quanto guadagna il premier Renzi eccolo in basso a questa infografica fonte il Corriere della Sera e il premier guadagna 9.566,39 euro al mese andiamo avanti ovviamente si tratta di stipendi che cumulano più indennità andiamo avanti con la cronaca dal quotidiano del sud il pentito minacciato in carcere il collaboratore Maviglia sostiene di aver ricevuto una lettera minatoria nel foglio indicazioni su dove si troverebbero familiari attualmente sotto protezione e ancora sempre dal quotidiano del sud una storia triste una brutta storia che speriamo la procura possa chiedere al più presto materiale porno nel pc del preto il religioso sarebbe stato un passo da una promozione ecclesiastica il sacerdote è sospettato di abusi su un ragazzino di 12 anni suo alunno e poi truffi, furti, spese pazze scandali sessuali dieci anni da incubo per la chiesa cosentina dal caso padre fedele agli ammanchi al santuario di Padova una bellissima pagina questa a firma di due ottimi colleghi Paolo Orofino e Marco Cribari una pagina che racconta degli scandali sessuali anche sessuali nella chiesa cosentina sono stati diversi in Calabria la nostra Loredana Colloca le ha raccontati così qualora le accuse fossero confermate sarebbe uno dei copioni più squallidi mai scritti la storia di un sacerdote che approfittando del suo lavoro quello di insegnante che gli consente un contatto quotidiano con i bambini si macchia del peggiore dei reati la vicenda ha al centro un religioso di Cosenza ieri mattina gli agenti della squadra mobile Bruzzi hanno perquisito la sua abitazione sequestrando materiale informatico e un personal computer l'accusa per il quarantenne è di aver abusato sessualmente di un suo alunno di 11 anni sulle indagini coordinate dal procuratore capo Dario Graneri e condotte dal sostituto Antonio Bruno Tridico vige il più stretto riservo secondo quanto trapelato gli abusi sarebbero avvenuti all'interno della scuola media dove il sacerdote insegna religione la vittima avrebbe raccontato ai genitori che hanno immediatamente presentato denunce in procura di essere stato palpeggiato dall'uomo circostanze da verificare ma non sarebbe certo il primo caso a Catanzaro è ancora in corso il processo a carico di Don Roberto Mastro ex parroco di Belcastro accusato di aver molestato tra il 2007 e il 2010 15 minori un processo giudiziario nel quale la curia arcivescovile di Crotone Santa Severina ha deciso di costituirsi parte civile un segnale forte da parte della chiesa ma non abbastanza Roberto Mastro infatti irreperibile dal 2010 non si è mai presentato alle udienze ospite in una località segreta al sicuro in una struttura religiosa ancora dal quotidiano del sud c'è il reportage sulla Ionio Cosenza un viaggio infernale un intero territorio a rischio isolamento fra traffico lavori e deviazioni l'odissea degli automobilisti che dalla Locride devono raggiungere il capoluogo poi sanità tre ore dopo l'intervento la piena funzionalità di anca e ginocchio è avvenuto in una clinica catanzarese infrastrutture Santelli su 106 a 3 il governo fa chilleraggio Forza Italia critica con il ministro e in basso una notizia molto particolare grave se fosse riscontrata dall'autorità giudiziaria la leggiamo schiaffia la bimba che non vuole l'anestesia dentista denunciato avrebbe preso a schiaffi una bambina di 8 anni per convincerla a sottoporsi ad anestesia e la denuncia sporta da una madre contro un dentista cosentino tutto si è svolto pochi giorni fa quando la bimba è entrata nel suo studio professionale per farsi devitalizzare un dentino neanche il tempo di mettersi i comodi ed ecco partire il primo ceffone così il medico avrebbe tentato di vincere la resistenza della bimba che proprio non voleva saperne di farsi pungere la bocca da una siringa secondo segue un secondo schiaffo e poi un altro ancora alla fine della seduta la donna sostiene di averne contato ben 7 una volta rientrata a casa la donna ha avvertito illegale di fiducia recandosi poi a sporgere querela negli uffici giudiziari e gli uffici giudiziari chiariranno se questo racconto corrisponde a verità andiamo ancora avanti Catanzaro la prima dell'edizione appunto dedicata al capoluogo di regione la sfida per il rilancio e raccolta oggi torna l'isola pedonale su Corso Mazzini col teatro in galleria primi sopralluoghi su Corso Mazzini dell'esperto di marketing pellegrino andiamo ancora avanti Palazzo De Nobbi il comune la tentazione di una nuova giunta si riapre uno spiraglio della porta di Catanzaro da vivere l'idea del rimpasto si fa strada per ora tra i big della maggioranza e poi l'ospedale pugliese va salvato anche dal consiglio comunale di fida del comitato preseduto dall'avvocato Pitaro eccolo l'avvocato Pitaro in questa foto passiamo invece alla soveratese Monte Paone idee comuni contro il degrado c'è anche il comune però di Gasperina nel progetto dedicato ai centri urbani tra gli obiettivi migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale poi danni al monastero l'interrogazione parlamentare della coordinatrice Azzurra Calabrese Iole Santelli al governo e ancora Badolato giovani apprendisti svizzeri protagonisti del progetto sociale ancora il crotonese si scava nella vita privata di Ranieri l'agguato avvenuto nel quartiere popolare Fondo Gesù al crotone l'altro ieri sotto la lente anche la compravendita di un immobile la polizia non esclude la pista passionale ma c'è pure quella legata alla droga Antonio Anastasi fa il capocronista del quotidiano del sud a Crotone fa un quadro ricostruisce le varie ipotesi sull'agguato che stava per costare la vita al pluri pregiudicato crotonese poi il nuovo procuratore di Crotone si insedierà martedì si tratta di Giuseppe Capoccia eccolo in foto viene come scrive il quotidiano da Lecce e ancora consumatori inaccessibile il Corecom non chiarisce l'associazione ADC replica sul mancato ripristino della videoconferenza andiamo ancora avanti passiamo alle cronache cosentine ecco l'approfondimento di Marco Cribari sul caso della bimba che sarebbe stata picchiata dal dentista bimba piange il dentista la picchia tutto si sarebbe consumato sotto gli occhi della madre che poi l'ha querelato le avrebbe rifilato sette schiaffi per convincerla a sottoporsi ad anestesia il fatto è accaduto in un noto studio professionale poi operaio pestato trovati gli autori si tratta di due romeni aveva dato ad entrambi un passaggio e poi maxiforto di rame con inseguimento fermato da uno dei ladri uno dei ladri altri due in fuga viaggiavano a bordo di un furgone rubato e ancora il fratello di corbelli scende in campo questo per ciò che concerne le elezioni amministrative cosentine ha lavorato per anni dietro le quinte con diritti civili si propone come candidato a sindaco per il movimento 5 stelle e ancora il sindaco desaparecido è l'attività denigratoria è il commento di Gianfranco De Franco e ancora Ateneo l'unical diventa più colorata con la creatività degli studenti conclusa la prima chiamata alle arti le pagine relativa al tirreno cosentino adottato il codice etico si tratta di paola insieme reti e beni comuni la sinistra cambia paola la sinistra extra consigliare detta regole certe per la lista e ancora dall'Oionio cosentino stop agli ecomostri di Zolfara sono riprese le demolizioni il sindaco di Rosano Antoniotti ha supervisionato i lavori passiamo adesso invece al regino zero titoli per il primo cittadino la fondo di reggio futura e fratelli d'italia che contestano la gestione del decreto reggio con questa amministrazione l'inoperatività dei fondi è arrivata al 100% la tirrenica distretto rurale sia al comitato Fiumara il comune aderisce all'organismo di gestione per l'agroalimentare di qualità il sindaco Stefano Repaci strumento operativo per lo sviluppo del territorio l'agrecanica atti politici su carta del comune l'opposizione bacchetta la maggioranza per l'uso dello stemma Minite ieri sollecitano il segretario a denunciare il fatto agli organi competenti la Locride stima dei danni 2-3 milioni di euro questo è quanto stimato dopo l'emergenza maltempo appunto ad ardore e poi Udc a sostegno del centrosinistra il commissario Leva presenta la lista scudo crociata al fianco di Scionti Versace grazie a Cese Trematerra l'aspirante sindaco domani dice arriva Oliverio passiamo invece alla prima dell'edizione di Vibo Valencia Vibonesi Unito no alla chiusura della prefettura insieme politica sindacati istituzioni movimenti e associazioni promossa per sabato 21 novembre una grande manifestazione pubblica e adesso un rapido sguardo anche alle cronache sportive del quotidiano del sud parte il weekend appunto sportivo Ricci si riprende il crotone l'attaccante fiducioso quel K.O. acqua passata contro gli Erpini vogliamo la vittoria dopo la panchina di Pescara è pronto a tornare dal primo minuto con Lavellino passiamo adesso al Cadanzaro la società resta vicina per la gara contro il Lecce il tecnico pensa al modulo 4-1-4-1 ieri l'allenamento presente l'intero Stato Maggiore Cosentino a colloquio con Erra e il Cosenza ora devi solo vincere la Mantia e Vutov sono out la Lega Pro arriva la Lupa Castelli mister Roselli avverte i suoi Vigor a Roccella con diversi assenti società ancora deferita per responsabilità oggettiva nel secondo filone di Artisoccer out Giannuse Torcasio per problemi muscolari in dubbio Gutta Calabria e Sacco la Regina campionata al Bivio al Granillo arriva il Gragnano intanto il Rende fa contro ricorso per il K.O. a Tavolino le prossime gare sono fondamentali per il proseguo della stagione Vibonesi in trasferta Pavigliani ci crede con la Gelbison per fare il colpaccio e con questa notizia di sport si conclude il nostro TG Mattina grazie a tutti voi per l'attenzione dalla nostra redazione un felice weekend amici una giornata di sabato caratterizzata da bel tempo da condizioni che non ricordano assolutamente quelle del fine settimana trascorso guardate che forza che ha l'anticiclone delle Azzorre in questo periodo sul Mediterraneo centro-occidentale è una lingua rossa che si estende lungo tutta la costa atlantica e interessa in pieno la nostra penisola dando quella configurazione diciamo anticiclonica che è tipica del periodo estivo se si pensa che il fine settimana trascorsa ha visto comparire sul meridione d'Italia gli effetti del terzo ciclone nell'arco di un mese che ha portato record di precipitazioni italiane per una stazione meteo calabrese che è stata quella di Chiaravalle che ha battuto ha segnato oltre 700 mm di pioggia con tutto quello che ne è conseguito gli effetti di questi fenomeni si sono avuti purtroppo devastanti su tutto il Regino la fascia ionica e invece questo fine settimana ha il sapore estivo perché avviene questo? Avviene questo perché c'è un blocco quest'anno della circolazione atlantica cioè non si ha quel movimento delle perturbazioni da ovest verso est che è tipico del periodo di novembre ma abbiamo i movimenti soltanto lungo i meridiani cioè o discese di aria fredda che alimentano cicloni da nord verso sud in discesa oppure ondate di caldo che da sud salgono verso nord come in questo caso danno luogo a un contesto in questa fine settimana dal sapore direi quasi estivo passando alla carta successiva delle analisi a 1500 metri di quota guardate l'Europa come priva di correnti fredde evidenziati in verde dovremmo vedere i primi segnali di un incipiente autunno i primi segnali di un periodo invernale che si avvicina ormai meno di un mese nient'altro di tutto questo ma il giorno di sabato dal contesto assolutamente tranquillo ideale per svolgere attività magari sportive attività ricreative attività lavorative all'aperto non sono da segnalare fenomeni significativi su tutto il settore settentrionale della nostra benissima dalla Liguria fino al Velido tutto l'arco alpino mi sa che le Alpi soffriranno parecchio questa situazione perché ci sarà scarsità di neve se continua così proprio non ci sono i segnali a livello di zero termico che possono portare la neve non solo sull'apennino meridionale sulla Silla ma neanche sull'arco alpino è veramente una situazione paradossale che lascia molto preoccupati il centro Italia in assenza di fenomeni bel tempo fine settimana mi verrebbe da dire quasi da trascorrere al mare sul meridione d'Italia oltre 20 gradi di temperatura ampie fasi solleciate lungo le coste ventilazione debole ditemi voi se non è un contesto che assomiglia più a un periodo di incipiente estate piuttosto che a un periodo che dovrebbe volgere all'inverno è una situazione questa abbastanza insolita che è determinata da quel fenomeno del nigno che è il riscaldamento anomalo dell'oceano pacifico orientale quello che bagna l'America meridionale quindi il pacifico che ha degli effetti poi sulla diciamo riduzione del flusso della corrente del golfo la famosa corrente del golfo di cui parla il day after la formazione di un'area fredda sull'atlantico che determina per dirla molto brevemente il movimento delle perturbazioni non con i canali soliti ma da sud verso nord o da nord verso sud quindi lungo i maridiani e non come dovrebbe e vorrebbe la regola lungo i paralleli quindi da ovest verso est un sabato quindi abbastanza tranquillo assai diverso da quello che ha preceduto il fine settimana trascorsa una domenica ancora all'insegna del sole di ampie fasi soleggiati in un contesto di instabilità meteorologica di cui non si vede neppure la fine direi che per oggi è tutto un saluto da Cono Taro per gli amici di La C visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della C News 24 va in onda alle 16 e 30 i calabresi sono informati che cosa carica non so addia